Ciao, creatura! Io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kudai ASMR. Eccolo qui il gioco di cui parlavamo su IG, Unpacking, che mi ha regalato gentilmente una creatura e adesso... Vabbè, ciao Marco, grazie. Non so se posso... penso di sì che posso nominarti. E questa serie di video uscirà sempre ogni domenica pomeriggio alle 17. Adesso io non so quanti video usciranno, perché è un gioco che non ha livelli che ti gestisci tu. Vedremo, da quello che ho capito, poi vedremo. Ho tolto la musica, perché appunto, anche se la regolavo, visto che era troppo alta e poi magari mi dà copyright, non lo so. E se ci giochiamo... il gioco è molto semplice. Unpacking. Bisogna spacchettare degli scatoloni e riporre gli oggetti dentro la casa. Quale scegliamo? Rosso, blu o verde? Io direi verde. Questo libro appartiene a... non so se mettere Eccate o Guzai ASMR, perché Guzai è il regno, quindi direi Eccate. Eccate. Benissimo, procediamo. Ho lasciato gli effetti sonori e ho tolto la musica, spero che non diano fastidio. Ho passato molto gli effetti sonori. 1997. Eccoci qua. Con questa cameretta da letto, con... Questo letto è sotto, c'è una scrivania e qui c'è una libreria. È letto tipo a castello, no? Con le sue scalette, la finestra. Qui c'è un altro armadietto che si può aprire, quindi dove si possono all'interno riporre degli oggetti. Apriamo questo scatolone e vediamo cosa troviamo all'interno. Un pallone da calcio. Lo metterei qui. Uno zaino con la luna, cioè... Ah, possiamo col tasto destro roteare, girare gli oggetti. Allora, lo metterei qui perché... O qui, o qui... Qui nascosto, volendo. Intanto lo mettiamo qui, poi magari possiamo anche spostarlo. È molto bello questo zaino. Siamo dei campioncini, vedo. C'è una... Una statuetta di un... Che abbiamo vinto qualcosa. Vediamo. Si, direi che... Mettiamo rivolta di qua. E la metterei qui. Ok. Poi... Ah, beh. Portapenne. La mettiamo qui. Dato che, comunque, questa è la scrivanina. Benissimo. Poi... Un righello. Il righello lo mettiamo qui intanto. Così. Un diario segreto. Allora, intanto lo appoggiamo qui. Poi... Poi... Dei... Dei pastelli, non so, di colori. Li mettiamo qui dentro. Ok. Poi... Un album da disegno, forse. Lo mettiamo qui. Un quadretto. Potremmo metterlo qui. Poi... Un salvadanaio. Mettiamo qui, per adesso. Ok. Un libro. Sì, una libreria, quindi... Mettiamoci questi libri. Oh, questo è un gioco... Degli anni... Novanta, infatti, era il 1997. E lo appoggiamo qui. Anzi... Sì, Tommy, lo appoggiamo qui. Una trottola. Una trottola. Dove potremmo appoggiare questa trottola? Qui vicino al salvadanaio. Ok. Un cubo di rubrica. Lo mettiamo qua, perché... È il nostro stimming. Quindi lo facciamo qua. Un cestino. Lo mettiamo qui sotto la scrivania. Scacchio d'ama. È scacchio d'ama. Lo mettiamo qui. Oh, lo mettiamo insieme ai giochi. Aspetta, allora, facciamo così. Potremmo metterlo qui. Qui mettiamo questo. Non si può mettere sopra? Se lo metto qui, non posso metterlo sopra. Ah, pensavo di poter riporre i giochi uno sopra l'altro. Allora, questo lo mettiamo qui. Questo resta qui. Scusa, fammi provare una cosa. No, pensavo si potesse riporre uno sopra l'altro. Ok, allora lo mettiamo semplicemente così. Un altro gioco. Che... L'allegro chirurgo. Cos'è? Procedure? Non so cosa sia. Sembrerebbe l'allegro chirurgo, sì. Bello. Io lo volevo tantissimo questo gioco. Quando ero piccola. Ma nessuno me l'ha mai regalato. Oh, abbiamo finito. Ah, c'è un cassetto qui. Allora io andrei a riporre il nostro diario segreto. Benissimo. Ok. Abbiamo questo scatolano, pure questo. Io aprirei questo qui. Molto ciotto. Un altro libro. Allora. Siccome questo libro è più grande, lo andrei a sistemare così. Intanto mettiamo questo qua. Dopo lo sposteremo in base ai libri che troviamo. Le forbici. Potremmo anche riporre qui se ci stanno. Ok. Una gomma. Beh, questa potrebbe servirci. Oh, che bel pupazzo. Oh, è bellissimo. È stupendo questo pupazzetto. Potremmo metterlo qui. O anche sul letto. Perché no? È molto bello. È bello. Lo riposizionerò qui all'onno. Poi, cos'è questo? Un poster. Bello. Lo mettiamo qui. Si potrebbe mettere anche qui o qui. Intanto lo mettiamo qui, poi vediamo. Un cagnolino. Ottimo. Allora. Un libro. Horror sui vampiri. Non sferato. Allora. Come al solito andiamo a spostare. in ordine di grandezza. Mi sembra. Sì, più grande. Quello rosso. Un altro libro. Tutti i libri fantasy. Più grande? No, sono altri uguali. Ok. Poi. Un Game Boy. Il Game Boy lo mettiamo qua perché lo useremo dopo aver finito i compiti. Che bello questo gattino. Gattino super carino. Lo mettiamo qui. Poi, un altro libro. Horror secondo me. O d'avventura. Perché c'è una piovra. E una nave. E la mettiamo. Mi sembra. Ok. No. No. E no. E no. Ok. Adesso sì. Poi. Una Polaroid. Ok. Vi ho dato un achievement. Ricordi permanenti. Perché possiamo fare una foto. Però prima finiamo, direi, no? Una torcia. Ok. Una torcia. La possiamo riporre qui. Nel mentre. Poi un altro libro. Sempre d'avventura. Sembra Tarzan. Tipo. Non lo so. A te ci sogno. Non so quanto sia alto. Ma sembra molto alto. Ok. Alto tanto quanto quello viola. Quindi per colore. Io direi. Mi piace di più. No. Avrei leone. Così. Perché stacca un po'. Con i colori. Eh certo. Guarda anche quello. Deve essere estetica. La nostra camera. Da letto. Un basso. Di quelli inglesi. Eh. Lo mettiamo qui. Poi. La corda per saltare. Eh. La mettiamo qua. Intanto. E questo scatolone è finito. Mio l'ultimo scatolone. Quindi io direi. Che possiamo dividere per stanze. Eh. I vari livelli. Ok. Non so adesso quanti minuti siano passati. Forse dovrei andare un po' più piano. Già finita la stanza. La camera da letto. Ok. Un altro libro. Allora. Potrebbe stare qui. O qui. No è più piccolo. Quindi qua. Per forza. Ma. Ma sbaglio. Quello blu sembra un po' più alto di quello rosso. Oh eh. Eh sì. Non sbagliavo. Ok. Allora andranno così. Che carino questo peluche. La mettiamo qui per adesso. Eh però si taglia la testa. Non si vede. La mettiamo qui. Intanto la mettiamo qui. Ah ricordiamoci che abbiamo anche. Allora se abbiamo riempito qua. perché questo non può stare qui sopra. Ok. Abbiamo una serie di pupazzetti. Allora li mettiamo un po' qui. Un po' qui. Secondo me. Che belli. Sembrano quei personaggi. Tipo. Che stavano su. Power Rangers. Oh non so mi ricordo di Power Ranger. I mini pony. Io li avevo i mini pony. Eh ma è tutto schiacciato rispetto alla collezione dei mini pony. Allora facciamo così. Ce li avevo io i mini pony. Io e mia sorella ne avevamo tanti. Però non mi ricordo i nomi. Anche i troll. Anche i troll avevamo. Anche i troll avevamo. Non tanti però. E i giuggetti anche. Eh si può fare così anche. Perfetto. Il Tamagotchi. Il Tamagotchi lo teniamo qua. Perché poi quando si svegliava. Perché poi quando si svegliava bisognava dargli... Madonna ma sta con me gigante comunque. Bisognava dargli da mangiare e pulirlo così così. Sennò poi ti moriva. Il Tamagotchi che bello. Io avevo quello originale con il pulcino. Ed era un uvetto blu. Dovrei avere ancora da qualche parte. Se non sbaglio. Potrei metterlo anche qua. Il Tamagotchi vicino al Game Boy. Però lo teniamo qua per adesso. Ah un paperotto con gli occhiali da sole. Non so se c'è abbastanza spazio. Qui lo possiamo... Troppo ingombrante. Potremmo metterlo qui. No perché non ci sta. Volendo ci sta qua ma... Qui ci sta volendo. A meno che non ci siano altri mini pony. Uh un po' pazzotto. Quello della copertina. A questo punto lo mettiamo sul letto insieme all'altro. Anche se l'altro è più bello. Lo lascerei lì da solo. Però lo spazio è quel che è. Uh. Chi è questo signor maialino? Chi è questo signor maialino? Lo mettiamo qua. Uh oddio. Non ci sta tutto qui. Aspetta allora. Chi poi si può mettere qua? No. Allora. Allora. I pupazzi. anche voi il tomococci qua ci sta possiamo metterlo qui possiamo mettere la gomma se ci sto io ecco a posto, perché non era troppo grande non mi piaceva tanto come stava lì anche il jambo potremmo metterlo qua anche se dovremmo studiare su questa scrivania e non giocare però mettiamo così dai e lo stereo secondo me dovrebbe essere qui però c'è quel pupazzo lo spostiamo tutto spostiamo i pupazzetti e qua mettiamo il nostro fantastico stereo il nostro fantastico stereo anni 90 anche alla fine anni 80 le cassette le cassette le mettere qua perché si prendono la polvere dopo è perché sono audiocassette sicuramente creatura quando tu che mi stai guardando il video sai di cosa sto parlando se sei degli anni 90 c'erano queste cassette un altro libro un altro libro ok mi sembra più alto del quello blu vediamo ma anche no allora alterniamo qua i verdi quindi poi c'è un libro su Re Babar com'è che si chiamava quel cartone degli elefantini che vedevo sempre sulla Rai Babar era non ci stanno più libri allora lo metteremo qui Babar a meno che questo che è vedi non sembra un libro sembra un portafoto lo mettiamo qui e questo lo mettiamo qua ed è più alto di quello blu vediamo un po' mettiamolo qua mi piace mi piace come stanno i colori ok un altro libro però abbiamo visto che non ce ne stanno più no ce ne stanno ancora era questo che che non era un libro allora è davvero un portafoto ok così ci sta eh si ci sta perché qui c'è del viola e qui c'è il viola quindi un po' staccato bello forse abbiamo abbiamo finito abbiamo finito ok abbiamo preso una stellina ok abbiamo preso un altro achievement all'inizio c'è finalmente in una stanza tutta mia ok bello mi è piaciuto sistemare tutte le nostre cosine una vicino all'altra qui mi da una videocamera devo schiacciare qui o devo schiacciare qui o devo schiacciare qui ok facciamo una foto allora abbiamo la possibilità di mettere come se fosse una polaroid un frame una cornice questo è una polaroid una cornice il gameboy ok così molto youtube copertina di youtube un pack 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 farei proprio copertina di youtube ok poi qui cosa c'è un filtro fa molto easy mettere questo molto estetica possiamo anche opacizzarlo no si opacizzato ok no tutto pieno io lo metterei questo invece ah sono gli stickers ah quindi prima abbiamo vinto questi stickers qui anche ma ne mancano due come mai forse li troveremo più avanti o forse non li abbiamo trovati non lo so comunque io ci metterò uno stickers qui così ecco super cute vediamo ho anche le stelline qui ok perfetto però mettiamole così ok perfetto allora non mi piacciono li ho cambiato non riesco mettiamole così perché erano troppo sotto al ai ai curicini e volevo fare una cosa asimmetrica e quindi l'ho messa qua mi dà un fastidio proprio sotto allineati i curicini non so per come motivo anche se in realtà mi dà comunque fastidio perché qui ci sono troppe troppe cose e volevo riempire un po' questo questo bucchetto qua ma a questo punto questo sticker ci trigger troppo lo rimettiamo giù questo avrei potuto vedere che cos'è non so se non l'ho trovato lo troverò o se dovevo trovarlo qui ma non so neanche come ho trovato gli altri onestamente comunque vabbè facciamolo a foto non so dove me l'abbia salvato vabbè andrò a cercare dove l'ho salvato si poteva anche rimpicciolire accidenti allora ne rifacciamo un'altra ah ok mi piace anche rimpicciolita allora ci mettiamo un sticker qua attorno e non avevo visto potremmo mettere altri cuori però perfetto allora mettiamo un po' di cuori quella ho visto che si sta anche vicino a non lo so a Valentino mettiamo anche delle altre stelline così e un altro cuoricino qui perfetto mi piace di più così molto anni 90 poi con gli stickers fa un suono bruttissimo quando faccio la foto quindi probabilmente li avrò mutato eh sì procediamo maggio 1997 2004 questo lo facciamo nel prossimo video comunque vedo che qua c'è il bagno e qua c'è ehm la cucina immagino guarda questo computer no fantastico 2004 allora questa stanza del 2004 o questa camera questa casa del 2004 perché vedo che c'è ci sono altre stanze la facciamo domenica prossima spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto ti abbia fatto rilassare magari nel prossimo video andrò ancora più lenta perché non pensavo di essere così veloce a riporre gli oggetti e ero troppo emozionata di provarlo e andrò un po' più lenta perché forse sono stata troppo veloce non lo so però a me sistemare gli oggetti piace tanto quindi me lo sono proprio presa bene e questo video si conclude qua io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura